Ciao Ilario, apprezzo qualunque cosa dici a prescindere, perché comunque è sempre utile. Allora te lo rispiego ancora una volta, forse non hai compreso bene da quello che ti ho detto. Questo non è un ascesso. Questo, lo vedi? Questa è una protesi che ha 20 anni. Questa deve essere ristrutturata, ribasata, ricalibrata. Questo lavoro per il mio dentista è 2500 euro di lavoro, questo è il preventivo che mi può fare. Questa roba qui, già chiesto prima di questo terribile momento. No, non me la passa la mutua, assolutamente no, perché sono a carico di mio marito, ma visto il suo reddito, io non ho diritto a un cazzo. Non ho diritto a un cazzo, nemmeno all'esenzione ticket. Quindi, questo lavoro non è un ascesso. Questo non è emergenza, questo è strutturale. Perché il mio dentista è incazzato? Perché io sono una cliente da 2500-3000 euro di preventivo che lui non può operare. E come lui sono incazzati, tutti i dentisti stanno mandando a bagno il paese, Ilario. Perdonami, spero di essere stata più chiara. Sai che c'è? Adesso vado a farmi una bella passeggiata anch'io. E io invece vado a fare Qigong. Arte marziale orientale cinese. Ciao ciao. Ciao.